effetti wall e triangolo ground e quadrato ground e sky sono quadrato wall e triangolo Poi mi carico e faccio anche scagno Il ground era quadrato? Eh Non ho idea di come ho fatto a non morire Triangolo Inizia a parte che ho da solo che sono in una situazione un po' negativa Eh Perfetto Perfetto Io non ho più niente Mancano due crit Quadrato è circle Cioè vuole circle Sky è circle Ok C'è il mio Entrambi? Ok Tempulisci gli adds Ok 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 Io ho un crit solo Io ho un quadrato Ce l'ho io il crit Ma quante risonanze ci sono? Io ho un crit, cioè io sono a posto Fai carichi e fai quello che devi fare Sta pulendo ai mob Tu ci sei? Quasi Adesso i niferi ho puliti i mob Io sono ready, anche adesso Andiamo a controllare se c'erano em pesanti Ma no, andiamo Vai Ho anche le risonanze Che ce ne saranno un milione Vai Non più agli azzi Vi In un minuto Non più vuole circle vuole circle e circle e sky è quadrato sky lo faccio io ground è quadrato posso fare io anche quello devo fare ground sfera chissi stop uno foreground sperando che sia rimasto uguale qui gl bonus j dove qualcosa ma crema in uguale arrivi sa la ha poi Manca un critico Io ho piramide Ho una sfera, provo a fare un wall adesso Scusami, è sfera Farlo risponare Fai mob intanto Devo trovare ammo Ok, ce l'ho Comincio a fare mob E li stai facendo Ok, io ci sono Destra sono tutti morti Scusa a sinistra, volevo dire Andiamo Aspettami Ehm, vai Non ora adianta Fammi ricaricare il cecchino Ok Mandalo tu dopo questo Aiutami, ho un secondo sparonato Grazie Grazie Radiante Gigi 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 Grazie Grazie